Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Inizia qui il vostro percorso e di fronte a voi c'è la prima scelta importante. Dovete decidere se io sarò un vostro amico oppure il peggiore dei vostri incubi. Il sorvegliante sembra tosto, tanto tanto tosto. Non li strappi in un sorriso neanche a pagare. Prima di andare nelle camerate C'è una grossa novità quest'anno. Avrete a disposizione una confortevole stanza singola. Una sola. Destinata a chi di voi si distinguerà per merito. C'è qui qualcuno che pensa già di meritarsela? Io. Lei? Secondo me sì. Perché? Io non ho paura di niente. Nelle nuove situazioni per me è molto semplice perché non conosci nessuno quindi nessuno sa chi sei, da dove vieni. Sono pronto come al solito. Io vedo una persona che in realtà si distingue. Per eleganza. Io non capisco perché si veste così. È come avere un vecchio con la faccia di un bambino. Vai, accomodati. Secondo me il ragazzo vestito tutto elegante è un ragazzo coraggioso. quindi lo stimo perché se ti vesti così vuol dire che non te ne frega niente il parere degli altri. Complimenti. La stanza singola sarà destinata a lei. D'accordo. Le abbiamo trovato pure la fidanzata. Silenzio. Ci stavano facendo delle domande perché il signore lì sembra suo figlio perché avete lo stesso completo. Ditelo che vi appartenete. Sì però io i capelli ce li ho. Ha dello spirito vedo oltre all'eleganza signor Di Piero. A quanto pare sì. Penso che mi sarà simpatico. Perdoe. Sen Worhi. Si ha difficili risidanio. Sì perché... La nostra storia anche mi ha seguito di questo, vorronto. Qui priamo a venire con il peso di sei fa. Grazie a tutti.